Andrea Masciangelo, un nuovo ruolo in un nuovo progetto che quest'anno punta ad un campionato di vertice in Serie D con la casacca, la divisa della Vastese. Non la indosserei ma sarai dietro la scrivania. Un nuovo progetto che ho accettato subito, dopo due secondi, che però la mia figura riguarda più l'aspetto organizzativo della società e non tanto quella del campo, quindi ho avuto questa fortuna di parlare forse due minuti col presidente. Ci siamo subito piaciuti ma mi ha dato tanta forza, tanta voglia di intraprendere questo nuovo ruolo che comunque in passato avevo fatto in eccellenza a Franghilla e l'Angolana, sotto il profilo soprattutto dell'organizzazione e della crescita della società. Secondo te c'è la possibilità per questa squadra in un campionato comunque molto competitivo di giocarsi veramente le carte per la vittoria finale? Ma guarda non mi piace parlare adesso perché di parole se ne fanno tante. Quello che so è che dopo dieci minuti ci siamo messi subito al lavoro per cercare appunto di migliorarci da tutti i punti di vista. Quello che sento è tanto attaccamento, tanta voglia, c'è una grande società strutturata, soprattutto di persone che dedicano 24 ore su 24 alla Vastese e a Vasto Città e questo secondo me è un buon punto di partenza. Lo staff tecnico è non solo completamente rivoluzionato a partire da te perché probabilmente bisognava voltare pagina? Lui mi ha detto che comunque aveva intenzione andando avanti di crescere e quindi forse ci siamo piaciuti. È un presidente carico che ha voglia di aumentare i suoi obiettivi. Questo piano piano sicuramente se si contorna di gente vogliosa, che lavora con umiltà e con rispetto, sicuramente spero i risultati arrivano anche da parte della società. Ritrovi a distanza di qualche mese Ottavio Palladini? Un grande ricordo, abbiamo lavorato insieme a Teramo, un grande esperienza, un grande uomo, un grande allenatore, quindi con tanto piacere anche tutto lo staff, un'esperienza bella e ringrazio la città di Teramo e tutti i tifosi di Teramo e tutte le persone che comunque hanno lavorato con me quotidianamente perché mi hanno dato tanto, soprattutto a livello umano e poi anche professionale. Quindi un saluto, un grazie e un caro saluto a tutte le persone che mi hanno aiutato in questi due anni di Teramo.